Cari amici, buona Pasqua a tutti, Pasqua di risurrezione. Sappiate però che io aspetto imminente la risurrezione del mio povero essere stato, l'asino su cui è scesa la Trinità Divina, su cui ha cavalcato da quando nacqui fino al 17 di agosto del 2016 per poi lasciarmi solo, abbandonato, come quell'asinello fu abbandonato da Gesù dopo che andò a esservi crocifisso ed a risorgere. Io aspetto la risurrezione dell'asino e me l'aspetto nel terzo giorno dalla risurrezione del figlio per una serie di ragioni che adesso io vi mostro e se volete vederle e se sono tante io ve le mostro. Ora io attendo il D6667 del terzo millennio che è aprile 3 del 2018. Come vedete dal calcolo della data, la differenza tra le date del 31 dicembre del 99 al 3 aprile del 2018 data da 18 anni, 3 mesi e 3 giorni, è di 6667 giorni che sono tutti quanti quelli di 6666 volte una unità. ci sono poi tutte queste ragioni date da 33 più 1 e 20 come distanza l'anno 2018 nel mese 4 e nel giorno 3 di cicli interi che giustificano ciò che può accadere il 3 del mese di aprile. potete leggermi tutte queste ragioni. Io adesso non sto a precisarvele. Se come credo, come spero, tutto ciò avrà un senso compiuto in relazione all'annuncio di questo angelo, ve lo descriverò con più attenzione in modo che possiate controllare come tutti questi cicli hanno la loro brava ragione di essere.